È un abito di matrimonio del 1880, speriamo che duri qualche altro anno, perché tra esponi, rimetti, interiposi. Ma come lo conservate? Noi lo conserviamo in una... io non capisco che si produce cose così, però lo custodisce la farmacista del paese in una sorta di stoffa che gli permette di traspirare e lo tiene in una sorta di ambiente molto secco. Perché lei dice sempre me lo tengo io, perché lì non c'è umidità, quindi più di questo non lo so. Perché è il 1880 sicuro, perché abbiamo fatto un'indagine anagrafica per scoprire quando la signora Vincenzina Capogrosso si spostò. Spostò nel 1880.